Era un campionato veramente strano, le basi a cui siamo abituati sono cambiate completamente col virus, quindi tutto da scoprire. Dalla nostra parte sicuramente le squadre più allestite, più attrezzate sono scafati Napoli e Forlì, mentre di là Torino, Verona, Udine, credo che queste siano le sei che hanno investito di più e che partono con i favori del pronostico. Il nostro girone potrei dire Forlì, Pistoia e penso anche Ravenna. Penso che anche Bergamo potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a un po' di squadre quest'anno. Credo che abbiamo un quintetto, più Gianluca, Della Rosa, insomma sono giocatori che hanno esperienza, insomma sanno stare in campo, sanno quello che vuol dire giocare un campionato del genere e poi abbiamo dei ragazzi che al momento hanno fatto una splendida impressione, speriamo continui a migliorare, credo che noi possiamo essere una di quelle squadre che dà fastidio appena dietro le prime, insomma. Poi dopo il campo parlerà, ma credo che il nostro obiettivo deve essere un obiettivo ambizioso, anche perché solo in questo modo la crescita può essere importante. Secondo me è anche appassionante per i tifosi, perlomeno anche da casa, poter vedere delle società che comunque sono blasonate, hanno una storia molto importante. Ma è uno dei motivi per cui sono venuto qua a giocare, è proprio perché ricordo l'avversario un ambiente incredibile e quindi insomma spero che si riesca a trovare il modo di star comunque vicini in attesa di tempi migliori e di poterci rivedere tutti al palazzetto. Purtroppo in questo momento che non potete stare con noi al palazzetto, stare insieme e vivere il momento della partita, vi chiedo comunque di starci vicini, perlomeno sui social e comunque di dare fiducia a questa squadra che ce la metterà tutta.